Il piano parcheggio dovrebbe arrivare a primavera 2024, come siamo messi? Ci stiamo lavorando, il piano parcheggio è una parte del piano generale del traffico urbano, stiamo lavorando con tutti, io sono convinta di, come sapete è un'approvazione di consiglio, quindi è un iter un po' più consistente, di sottoporre alla discussione, alla valutazione dei municipi, del consiglio e delle commissioni proprio nella tarda primavera.